ciao ragazzi benvenuti attravertoni qui c'è mario non solo caffè di torre annunziata ci abbiamo preso un vinello un po rilassato qui c'è del pane alla pancetta piastrato ci sono due olivine come si chiamano due lupini abbiamo preso due primitivi nei gramali del sale buonasera a tutti ragazzi siamo un po rilassati un pomeriggio all'insegna del relax no mario ok dopo dopo l'esterno che abbiamo fatto dopo le ricette che abbiamo fatto siamo ritornati qui è un po in giro con controllo qui c'è mario mare si sta rilassando un po ragazzi questo è il locale un bel locale dopo vi lo mostrerò un po di più ok a più tardi ragazzi un'altra immagine qui travertoni saluta com'è buono eh questo pane è stavoloso bello molto molto buono bello tostato è buono molto molto buono sembra un rustico vero è un locale bellissimo che paga gente però non fa niente questo è ragazzi uno stuzzichino una scivizzetta niente di che giusto per aprire un po la serata no ragazzi non vi dicevo prima che questo pane alla pancetta è proprio buono eh lo faremo ora che andremo in cucina lo faremo lo voglio fare con voi è molto semplice da fare quindi faremo questo pane alla pancetta è ideale proprio come aperitivo Mario eh per non prendere le solite cose prendere un po di pane alla pancetta il locale è molto bello qua ragazzi eh molto molto bello ok e niente dicevo una cosettina così due olive un pinetto giusto per staccare un po del valore da un po di diamo ok non lo so dai se continuiamo dopo ci salutiamo qua penso che continuiamo dopo dopo ci andiamo a prendere le zeppole con i panzerotti che è un'altra delizia da provare ok questo pomeriggio è piuttosto annunziata adesso molto molto bello qui c'è il palco si suona è un locale molto molto grande qui c'è Mario ahahah addobbio ragazzi Mario dopo l'uflus grande qui a storia ragazzi per chi non conosce questo posto è storia poi Mario conosce i proprietari ci hanno offerto questa pizza quindi fantastico veramente quella vetrina c'è un po di tutto lì che vi faccio vedere un po dai abbiamo l'occasione si va dal rustico graffie ce n'è di tutte e di più ragazzi c'è lì fatti pronti poi c'è il cirocosto ma eh ragazzi da venire oh no Mario ci si trovi in zona deve venire qui no a gustare queste predibatezze poi tra l'altro non si spende nemmeno tanto eh ok ragazzi a dopo io mi sparo questa pizza ragazzi siamo ritornati a Camaro come è stato l'oculus no non so è stato bello siamo andati a prendere questo aperitivo ragazzi al prossimo video con travertoni con altre immagini dell'esterno non so cosa fare io ma andremo a visitare forse qualche museo vero Mario ok al prossimo video ragazzi sempre con travertoni ok ci vediamo ci vediamo anche in cucina eh per altri pianti ciao a tutti ciao a tutti